Ti svegli spesso tra le 3 e le 5 del mattino senza un apparente motivo? Se ti svegli frequentemente in questo intervallo di tempo, devi sapere che l'universo ti sta offrendo un'opportunità speciale. Resta con me, perché esploreremo l'incredibile verità spirituale che si cela dietro il risveglio tra le 3 e le 5 del mattino. Come puoi immaginare, non è qualcosa che sta accadendo per caso. Vedremo quali potrebbero essere le cause di questo risveglio e cosa possiamo fare quando ci svegliamo a quest'ora. Ma prima di iniziare, permettimi di dirti che in questo canale parliamo di tutto ciò che riguarda la spiritualità e la crescita personale. Ogni settimana carico nuovi video, quindi iscriviti e attiva la campanellina per accompagnarti nel tuo viaggio spirituale. Per cominciare, è importante chiarire quale significato abbia questo intervallo di tempo. Nel mondo spirituale, il risveglio tra Le 3 e le 5 del mattino è considerato un momento significativo e potente. È un periodo di tempo che è stato venerato e studiato in diverse tradizioni spirituali lungo la storia, per varie ragioni. Una di queste è che il numero 3 è associato alla Trinità Divina o all'unità tra corpo, mente e spirito. Inoltre, si dà importanza alle 3 del mattino come il punto più profondo della notte, il momento in cui l'oscurità e il silenzio sono al loro massimo prima dell'alba, simboleggiando l'inizio della rinascita e della luce spirituale. Alcune persone possono spaventarsi o pensare che svegliarsi a quest'ora sia qualcosa di negativo, ma è esattamente il contrario. In realtà, dovremmo approfittare di questo momento della notte per il nostro beneficio spirituale. Se ti svegli spesso in questo intervallo, è molto probabile che tu sia una persona altamente spirituale, molto sensibile all'energia e in sintonia con l'universo. Si ritiene che il periodo tra le 3 e le 5 del mattino sia sacro perché si dice che il velo 3A, il terreno e il divino diventi più sottile in questo intervallo, consentendo alla presenza spirituale di diventare più evidente. Questo momento offre un'opportunità unica per la preghiera, la meditazione e la riflessione profonda, poiché si crede che l'anima sia più aperta alla guida e alla saggezza divina. Quindi è probabile che forze superiori stiano cercando di comunicarti un messaggio ed è per questo che ti svegli a quest'ora, quando hai più possibilità di ricevere e interpretare quel messaggio. Se lo consideriamo da una prospettiva spirituale, l'universo è in costante comunicazione con noi e i risvegli durante questo periodo possono essere un importante messaggio cosmico. I sogni e l'intuizione possono essere più vividi e rivelatori. Prestare attenzione ai pensieri ricorrenti o ai segnali che arrivano in quel momento può fornire una preziosa guida per la nostra vita e la nostra crescita spirituale. Se spesso hai sogni vividi o sogni storie ben strutturate che hanno un grande significato per te e ti stai svegliando in questo momento, assicurati di avere carta e penna a portata di mano per annotare tutto ciò che ricordi nel momento in cui ti svegli. Senza dubbio potresti essere in procinto di ricevere un messaggio dall'universo stesso attraverso i tuoi sogni e la tua intuizione. Svegliarsi in questo momento potrebbe anche rappresentare un'opportunità o un invito alla purificazione spirituale. In molte culture questo momento mattutino è considerato una finestra di purificazione. Si crede che pensieri, emozioni ed esperienze negative possano essere rilasciati più facilmente in questo momento del giorno. Svegliandoti tra le 3 e le 5 del mattino puoi diventare consapevole dei tuoi blocchi interni con maggiore facilità e iniziare il processo di guarigione e pulizia spirituale. Se ti svegli a quest'ora è il momento ideale per praticare rituali di perdono e gratitudine poiché questo intervallo di tempo è simbolicamente associato alla rinascita e alla transizione dall'oscurità alla luce dell'alba. È quindi un momento che rappresenta l'opportunità di liberarti dal passato, lasciar andare e aprire il cuore al perdono e alla gratitudine. Si sa anche che a questo punto la mente è molto più ricettiva agli aspetti spirituali. Quindi la pratica di questi rituali di perdono e gratitudine ci consente di elevare la nostra consapevolezza e di connetterci con gli aspetti più elevati del nostro essere, permettendoci di avanzare verso una vita più piena e armoniosa. Svegliarsi tra le 3 e le 5 del mattino è anche un segno che sei completamente allineato con i cicli naturali dell'universo. In questi momenti la Terra sperimenta uno stato di quiete e rinnovamento e il tuo risveglio in questo intervallo orario riflette la tua connessione con i ritmi cosmici. È come se tu stessi sintonizzando il tuo essere con l'armonia del cosmo, permettendo all'energia universale di fluire attraverso di te. Essere in sintonia con questi cicli può portare a una maggiore chiarezza mentale e spirituale, nonché a una sensazione di pace e scopo nella tua vita. Questa armonia con i cicli naturali può anche potenziare la tua intuizione e consentirti di ricevere messaggi e una guida dall'universo in modo più chiaro. Ti consiglio di sfruttare questo tempo sacro per la meditazione, la preghiera, la riflessione e la connessione con il tuo essere più profondo. In quei momenti di quiete e comunione con il Divino si trovano le opportunità più preziose per la crescita spirituale e l'espansione della coscienza. In conclusione, il risveglio tra le tre del mattino e le cinque del mattino ha profonde implicazioni spirituali. È un tempo sacro che ci consente di connetterci con il Divino, ascoltare il messaggio dell'universo e allinearci con l'energia universale. Desidero sinceramente che ogni risveglio in questo intervallo magico sia un'opportunità per la crescita e l'espansione della tua anima. Raccontami nei commenti se anche tu ti svegli regolarmente in questo intervallo di tempo e se conoscevi già la magia di questo orario. A breve, creerò una meditazione guidata dove andremo a potenziare la capacità di fare e avere sogni lucidi. Spiegherò anche tutti i benefici che puoi ottenere con questi. Condividerò in anteprima il link nel mio canale Telegram dove potrai scaricare l'audio gratuitamente, ma solo per poche ore. Link in descrizione o nel primo commento. Spero che queste informazioni ti siano state utili e ricorda che puoi farmi qualsiasi domanda nei commenti. Grazie infinite per essere qui con me. Ti chiedo di lasciare un mi piace se hai apprezzato e di iscriverti per rimanere in compagnia nel tuo viaggio spirituale. Da qui ti mando tutta la mia energia e come sempre ti auguro un meraviglioso viaggio.